Le principesse brillano con i loro vestiti sfavillanti. Entra nel mondo delle principesse con la nuova collezione Disney Princess. No! Se lo uccidi dovrai uccidere anche me allora. Figlia, allontanati! Non lo farò! Io lo amo, padre. Guardati intorno. È a questo che la via dell'odio ci ha portato. Questa è la via che io ho scelto, padre. Quale sarà la tua? Dimmi. Mia figlia parla con una saggezza che va al di là dei suoi anni. Siamo tutti venuti qui con la rabbia nel cuore, ma lei è venuta con il coraggio e la comprensione. Da questo giorno in avanti, se ci saranno altre uccisioni, non cominceranno con me. Slegatelo. Grazie. Grazie.